Ok, per fare questo esercizio partiamo in posizione di quadrupedia. Mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. Fermate con una mano una benda elastica e afferratela con la mano opposta. Locate il braccio e il gomito lungo il fianco. Da qui raddrizzate l'avambraccio all'indietro per isolare il lavoro del muscolo tricipite. Sentirete il muscolo dietro al braccio, il tricipite appunto, che lavora. Non muovete la spalla, mantenete stabile il braccio per tutto l'arco del movimento.